Salve, ciao India, è arrivata la bella stagione e con la bella stagione e col bel tempo dobbiamo essere particolarmente attenti alla prevenzione nei confronti dei parassiti, le pulci, le zecche, gli acari e la deterrenza nei confronti delle zanzare e dei flebotomi. Infatti tutti questi insetti possono trasmettere delle gravi patologie. Le pulci possono trasmettere dermatiti e parassiti intestinali, le zecche, gravi e anche mortali, patologie a carico dei globuli rossi. Per quanto riguarda la filaria trasmessa da zanzare e la leismania, i sistemi di prevenzione sono diversi. Per la leismania è possibile effettuare una vaccinazione con durata annuale. Per quanto riguarda la filaria bisogna applicare sul cane dei deterrenti per tenere lontani questi insetti volanti. Per quanto riguarda le pulci, le zecche e gli acari diversi possono essere i prodotti da applicare sul cane. Il classico spot on in fialette da mettersi una volta al mese oppure delle compresse da dare per bocca appetibili che tu mangi volentieri e che durano anche un mese. Grazie, arrivederci al prossimo appuntamento con i consigli sui nostri piccoli animali da compagnia sui cani e sui gatti. Ciao India!